Allora, come sono le primarie viste da un giorno le pecora? Beh, sono primarie completamente diverse. Noi dalla mattina abbiamo iniziato a fare dei morning poll, cioè interviste e scrutinio con i seggi ancora aperti e questa mattina Bersani e Vendola andavano al ballottaggio. Grande sorpresa Renzi fuori dal ballottaggio. Avremo scoperto, scopriremo, dipende quando andremo in onda, se erano vere o no. Io penso di no. Secondo te? Come sono? Io penso di sì, anche perché c'è un risultato che non ci ha sorpresa affatto. C'è la grande e incredibile prestazione di tabacci, che è 0%. Non ci credo. 0%, sì, sì, assolutamente. Ma voi che dati avete? Quali sono le vostre fonti? Beh, le nostre fonti sono il popolo, il popolo, la gente sparsa nei... Il popolo? Il giornale. No, no, il popolo. Ha chiuso da molti anni. No, il popolo del centrodestra. Tabacci col suo 0% ha preso un po' di qui e un po' di là, è riuscito a mettere d'accordo un po' tutti. Voi siete qui a Testaccio, che avete mangiato al pranzo? Siamo stati in mensa alla Rai, di domenica è bellissimo perché non c'è nessuno, non si fa la coda. Non ci credo, a Testaccio si andate a mangiarvi l'abbacchio scottalito, sicuramente. Questo è qualunquismo che noi respingiamo con forza. Carciofi alla Romana? Carciofi alla Romana l'ha mangiata il simpatico Lauro, che sta mentendo in questo momento, perché lui è andato a mangiare qui in un ristante qua dietro, mentre io purtroppo stavo mangiando alla mensa della Rai, sì. Insieme a Tabacci, però. E lì hai scoperto che lui è il vincitore? Sì, certamente. Tabacci era molto contento, ha detto che non ha mai avuto una prestazione del genere. Non sarà stato l'effetto della mensa della Rai che gli ha dato la testa? Eh sì, sì, la mensa della Rai fa dei drammi, per dire, Gubitosi mangia sempre lì. E che cosa penso appunto la dirigenza di questi vostri exit poll? La dirigenza Rai non sa che andiamo in onda, altrimenti non ci farebbe andare in onda. Avrebbero già giusto? Sì, sì, assolutamente. Allora, fate radio clandestina? Un po' clandestina. Dobbiamo anche denunciare che queste primarie non servono a niente, perché tanto torna a Montibis. Allora farete le nuove primarie per Montibis? Noi abbiamo soltanto uno slogan, ormai tanto torna a Montibis. Noi ormai a domanda rispondiamo soltanto tanto a Montibis. Prova a chiedermi, come stai? Come stai? Tanto torna a Montibis. E tu come stai? Tanto torna a Montibis. Allora, ci vediamo col Montibis.